La fortuna bacia ancora Pesaro. Dopo la vincita di un milione registrata nei giorni scorsi alla tabaccheria 2000 di Soria, ieri sera, durante l'estrazione della Lotteria Italia, è arrivato l'annuncio che il biglietto associato al primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto in città. La vittoria di Pesaro porta le Marche ad essere la prima regione classificata nel 2020 al concorso nazionale, dopo i grandi colpi registrati negli anni passati a Numana e a Senigallia. Tanta l'emozione questa mattina nei locali della tabaccheria Cardinali, la rivendita situata in piazza Lazzarini presso cui è stato staccato il tagliando vincente di serie E 40 90 84. L'emozione è stata grossissima, questa notte non si è dormito quando abbiamo visto che il primo premio era stato venduto a Pesaro e avevamo il presentimento che potesse essere uno dei nostri perché insomma il numero era vicino ad altri numeri in nostro possesso ma non abbiamo avuto la certezza fino a questa mattina. Stamattina l'abbiamo avuta la matrice del biglietto vincente qua da noi, il biglietto da 5 milioni, il primo premio, una botta dai, grossa. Siamo contenti, siamo contenti per il vincitore, siamo contenti per tutta la dinamica della cosa, ci puntiamo sulle lotterie, ci puntiamo su tutto il nostro lavoro quindi ci fa piacere che qualcuno vinca. Difficile risalire l'identità del fortunato vincitore, affermano titolari e dipendenti del punto vendita, visto anche l'elevato numero di biglietti venduti. La stessa tabaccheria è stata protagonista in passato di altri colpi importanti riscossi anche su altri giochi. Una vittoria come quella di ieri sera però non si era mai vista. È la prima vincita di questo calibro da 5 milioni ma grosse vincite c'erano già state da 500 mila, 50 mila e tanti altri premi da mille euro vari insomma. Però 5 milioni sono 5 milioni, non è usuale.